Voga 2015, giorno 17. L'argomento di oggi è «la prima cosa che farai quando diventerai adulto» che è una cosa abbastanza complicata a cui rispondere, per almeno due motivi. Il primo è che i miei quarant'anni stanno letteralmente dietro l'angolo, il secondo in realtà è che nella mia vita ho avuto tanti problemi e tante situazioni che ho dovuto affrontare veramente a testa bassa, quindi in realtà questa fase, quella di diventare adulto, l'ho vissuta molto tempo fa, per cui voglio vedere a questa cosa un pochettino nel passato, perché nella mia vita ho fatto molte scelte, ho preso molte decisioni e di alcune in parte ho un rimpianto, di altre no. Sicuramente la cosa che mi ha fatto sentire più importante è la scelta di vita, che un po' ha segnato il passaggio dal mio passatempo di infanzia al mio lavoro vero e proprio è stata quella di aprire l'azienda quindici anni fa, di diventare titolare dell'impresa e quindi di... nonostante siamo in un periodo di crisi e comunque c'è qualche difficoltà, è stato in ogni caso questo discorso di mettermi a lavorare per me stesso, quello che mi ha cambiato sicuramente più di ogni altra cosa. E dunque diciamo che la prima cosa che ho fatto quando sono diventato adulto è stata proprio quella di mettermi in gioco, mettere in gioco tutto me stesso costruendomi un lavoro. Quindi questo è quello che ho fatto io. E voi? Se siete più giovani di me, quale sarà la prima cosa che farete quando diventerete adulti? Se invece siete un pochino più stagionati come me, qual è stata la prima cosa che avete fatto quando siete diventati veramente adulti? Fatemelo sapere con un commento qui sotto e naturalmente, come sempre, non dimenticate di iscrivervi, di fare pollice in alto e di condividere questo vlog. Bene ragazzi, sono Grizzly, questo era il vlog del giorno 17 del VOGA 2015, per cui noi, come sempre, ci vediamo domani con il prossimo vlog. Ciao a tutti!